Siamo a San Severo per Stato Quotidiano, è martedì 16 ottobre, sono le 16.30. Questa mattina avevamo visto qual era la situazione di degrado della postazione dello backsharing. La nettezza urbana non è ancora arrivata. A raccogliere i medesimi rifiuti, bottiglie di vetro, sacchetti di carta, escrementi di cane stamattina, qualche residuo di sillino. Ecco, questa è la situazione. Servizio di biciclette pubbliche a San Severo, installato due anni fa, dismesso due mesi fa grazie a furti e atti di vandalismo.